E come previsto Ravenna sia svegliata ricoperta da una coltre di neve bianca, rispettate quasi al minuto le previsioni del tempo che avevano annunciato neve a partire dalle 2 di notte. Questa mattina intorno alle 10 sulla città bizantina vi era uno strato di circa 5 cm di neve. Come stabilito dal piano neve-ghiaccio attivato dal comune in caso di precipitazione a carattere nevoso e conseguente rischio di ghiaccio sulle strade dovuto alle basse temperature, quest'oggi sono state sospese le attività didattiche negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine grado e di tutto il territorio comunale, compreso università, accademie di belle arti e istituto verdi. Per quanto riguarda il servizio relativo al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e neve, sono entrati in azioni i mezzi con lame, pale, autocarri, bobcack e spandistale, che sono intervenuti secondo tre livelli di priorità, alta priorità per garantire la viabilità nei punti di ingresso e uscita dalla città e l'accesso agli edifici più importanti in fase di emergenza come il pronto soccorso, le sedie delle forze di polizia, gli uffici amministrativi, media priorità strade comunali di viabilità principale in città e nel forese, con particolare attenzione ai tratti di insalita, agli svincoli, alle rotonde e alle curve e agli incroci pericolosi, bassa priorità strade secondarie, piazze, parcheggi e percorsi ciclabili e pedonali. Sempre secondo il piano neve-ghiaccio, anche i cittadini ravennati si sono attivati per evitare ulteriori disagi. Molti virtuosi questa mattina erano a lavoro con le pale per liberare dalla neve le aree prospicenti e le proprie abitazioni. Per quanto riguarda la viabilità, è stata assicurata dai mezzi in azione e non si registrano particolari criticità, ha dichiarato il comandante dell'APM, Giacomini. Le strade sono quasi tutte percorribili, qualche disagio sulle strade del forese, ma non si sono verificati incidenti di rilievo se non qualche perda di controllo dell'auto dovuta al manto nevoso. Quasi regolare è anche il transito degli autobus di Start Romagna, che questa mattina intorno alle 11 registrava un ritardo tra le fermate cittadine di circa 5 minuti.